Sì, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti parlerò di Tekenu, Obelisco del Sole. Questa è l'ultima fatica di Daniele Tascini e David Turkzi, edito dalla Board and Dice e localizzato in Italia dalla Jokix. In questo gioco noi siamo dei nobili egiziani e dobbiamo costruire il Tempio di Amurra e i suoi dintorni. In realtà noi non costruiamo proprio niente perché schiavizziamo la gente per farlo mentre ci beviamo dei cocktail con l'ombrellino. Ora andiamo a vedere preparazione e tutorial, ma se vuoi vedere il video del mio parere puoi cliccare in alto o in descrizione. Ma se sei ancora qui andiamo a schiavizzare. Oggi prepariamo una partita per due giocatori, ma ti faccio vedere le differenze anche per un numero diverso. Questo gioco ha anche la versione in solitario contro l'auto Mario e quella te la lascio studiare da solo andando a leggere il regolamento o magari più la farò anche un video sul singolo giocatore. Chi lo sa? Bene, come prima cosa ovviamente metti il tabellone al centro del tavolo. Dopodiché prendi ruota e obelisco, metti la ruota orientata casualmente sul tabellone insieme al suo obelisco, facendo attenzione che le varie sezioni della ruota coincidano con le azioni. La freccia deve puntare su uno di questi divisori e puoi scegliere il lato della ruota. Questo qui è più comodo perché ti indica dove andranno messi i dadi. Trovata la freccia, da lì conta quattro sezioni e mettici il segnalino con la bonus dell'azione Horus che sono stampate sul tabellone. Altrimenti metti casualmente le tessere Horus in questi spazi. Mischia le tessere pilastro e mettile in una pila vicino il tabellone. Quindi scoprine tre da mettere in questi spazi nell'azione Ra. Metti tutte le risorse vicino al tabellone, tra cui l'oro, il calcare, il pane, il granito e i papiri, insieme agli scribi e i segnalini che non sono considerati risorse. Quindi metti un oro in ognuno di questi spazi. In questi due spazi statua, in questo spazio vicino al 2 e in questi spazi statua vicino al tempio. Adesso prepariamo il sacchetto dei dadi dove in una partita quattro giocatori ci vanno tutti i dadi. In una partita tre giocatori invece devi rimuovere due dadi grigi, in una partita due giocatori come questa invece devi rimuovere un dado marrone, uno giallo, uno bianco e uno nero. Esistono cinque colori di dado e in base a questo e alla loro posizione attorno alla ruota dell'obelisco possono essere proibiti, contaminati oppuri. Questo schema che vedi qui attorno o quello che trovi dietro la scheda di riferimento ti aiuta a ricordarlo. I dadi grigi sono sempre contaminati. E ora dai componenti a ogni giocatore nel colore scelto. Una plancia sulla quale vengono messi questi edifici, le sei statue, un segnalino produzione in ognuno di questi spazi dove c'è il numero 2, 8 pilastri, un segnalino maat che viene tenuto qui per adesso e un segnalino segnapunti da mettere sul 10 del tracciato segnapunti. Un segnalino felicità da mettere sul 2 di questo tracciato e un segnalino popolazione da mettere sul 5. Infine dai a ogni giocatore uno scriba e un oro. Non scordarti ovviamente la scheda di riferimento. In una partita a due giocatori rimuovi la tecnologia T16 e il decreto di 20. Dopodiché prendi tutti i mazzi, mischiali separatamente e mettili vicino il tabellone. Seguendo le indicazioni che trovi nel mercato delle carte metti le benedizioni e le tecnologie. Le altre sezioni del mercato delle carte al setup restano vuote. Dai quindi due carte decreto a ogni giocatore, il quale ne sceglie una e scarta l'altra in fondo al mazzo. In una partita a due, tre o quattro giocatori scopri rispettivamente 5, 7 o 9 di queste carte di partenza e anche le carte destino. Ora scelto casualmente un ordine di turno e partendo dal primo giocatore, lui sceglie una di queste carte di partenza, poi il secondo, il terzo, il quarto e poi si fa al contrario. Quindi il quarto sceglierà due carte, poi il terzo, il secondo e il primo. In una partita a due giocatori come questa funziona che il primo giocatore sceglie una carta e il secondo ne sceglierà due e il primo giocatore sceglierà un'altra carta. Fatto questo si va a vedere il valore delle carte scelte, le altre invece vengono rimosse. Il giocatore con il valore più alto diventa primo giocatore e poi a seguire. Con questo nuovo ordine di turno che viene segnato qui sopra si scelgono le carte destino, prima il primo giocatore e poi a seguire gli altri. In base alla loro iniziativa totale i giocatori mettono qui i segnalini mat per indicare l'ordine di turno, dove chi ha un valore più alto è primo nel turno. In caso di parità fa fede la carta con il valore più alto. Nel nuovo ordine di turno i giocatori selezionano una carta destino, la mettono nella propria area di gioco e ottengono il beneficio. Le altre vengono tenute vicino al tabellone. A questo punto i giocatori ottengono le risorse dalle carte iniziali e le carte iniziali vengono rimesse nella scatola. Il gioco dura 16 round in cui ci saranno due macrofasi di punteggio e quattro fasi maat in cui si riorganizza l'ordine di turno e dobbiamo cercare di bilanciare il nostro equilibrio. Quando i giocatori avranno esattamente due dadi sulla propria plancia avverrà una rotazione della ruota dell'obelisco. Quando i giocatori invece avranno quattro dadi sulla propria plancia avverrà una fase maat. Alla quarta rotazione avviene una seconda fase maat e una fase di punteggio. Nel tuo turno devi prendere un dado dal tabellone, facendo attenzione da dove lo prendi, perché esistono dadi proibiti, che non possono essere presi, dadi contaminati e dadi puri. Quelli che si trovano nello spazio con la piuma sono considerati puri. Quelli invece che si trovano nello spazio con il vaso sono considerati contaminati. Questi qui invece sono dadi proibiti che non possono essere presi. Senza cambiare il valore del dado mettilo sulla tua bilancia, da questa parte se è un dado puro, oppure da questa parte se è un dado contaminato. Quando prendi il dado puoi aumentare o diminuire il valore di uno o due spendendo uno scriba. Quindi metti il dado sulla tua plancia. A quel punto devi scegliere che azione fare. Puoi fare l'azione di produzione risorse in base al colore del dado, tenendo presente che i dadi grigi non producono risorse, oppure l'azione del dio in base a dove hai preso il dado. Se sei ultimo nell'ordine di turno e hai due dadi sulla tua plancia avviene una rotazione, se ne hai quattro avviene una fase maat, ma se non sei ultimo passa il turno al giocatore successivo. E ora vediamo le azioni. L'azione Horus ti permette di costruire una statua per onorare gli dèi oppure per il popolo. Se stai costruendo una statua per gli dèi, il numero del dado indica a quale dio verrà costruita. Ci sono diversi spazi in ogni area, ma solo alcuni sono disponibili in base al numero dei giocatori. Ad esempio in una partita a due giocatori come questa c'è uno spazio disponibile per ogni sezione. Prendi la statua più a sinistra dalla tua plancia pagando nel costo indicato e mettila in uno degli spazi indicati dal dado che hai scelto. Questa statua ti permetterà di ottenere il bonus indicato dall'icona del dio ogni volta che un giocatore prenderà un dado da quella zona. In partite a tre giocatori ottieni il bonus anche quando costruisci la statua, mentre invece in partite a due giocatori non l'ottieni quando la costruisci, ma lo ottieni anche quando fai tu quella azione. Ricorda che costruire più di una statua nella stessa sezione non dà ulteriori bonus. Quando invece costruisci una statua per il popolo pagato il costo mettila in uno di questi spazi che vedi sul tabellone prendendo l'oro. Come indicato qui costruire una statua vicino al tempio ti fa ottenere tre punti vittoria per ogni pilastro tuo che si trova in quella riga o colonna. Costruire una statua per il popolo non ti dà dei bonus immediati ma la possibilità di ottenere punti vittoria in seguito. L'azione è RA ti permette di costruire i tuoi pilastri all'interno del tempio sopra queste basi pilastro. Il costo è determinato dalla tessera qui nella parte alta e inoltre ottieni i punti vittoria indicati in base alla tessera che hai preso. La tessera viene posizionata all'interno del tempio in uno spazio vuoto e puoi prima ruotarla come vuoi. Ottieni un punto vittoria per ogni edificio presente nella stessa colonna o riga a prescindere dal giocatore. Ottieni un punto vittoria per ogni bordo della tessera che hai posizionato che è adiacente a un bordo dello stesso colore oppure in direzione di un bordo esterno del tempio che coincide nel colore. Se posizioni la tessera in un angolo ottieni il doppio dei punti quindi due punti per lato. Posizionata la tessera ottieni il bonus che stai coprendo. Se poi il colore della tessera pilastro coincide con la sezione d'ombra dell'azione RA ottieni immediatamente il bonus mostrato sulla tessera se presente e mettici sopra il tuo pilastro. Quindi fai scorrere le altre verso destra e aggiungine un'altra. Ora vediamo l'azione di Hathor che è direttamente collegata a quella che abbiamo visto e ti permette di mettere degli edifici attorno al tempio. Preso dallo spazio più a sinistra della tua plancia al costo di due, tre o quattro pane in base a dove lo andrei a posizionare. Tieni presente che alcuni spazi non sono disponibili in base al numero dei giocatori. Posizionato l'edificio per ogni spazio in quella riga o colonna in base a dove lo hai posizionato, ottieni tre punti vittoria per ogni pilastro del tuo colore e una risorsa per tipo indicata sulla base del tempio. In questo caso il giocatore arancione otterrebbe un segnalino fato, un calcare, tre punti vittoria, un granito e un pane. Infine avanza il tuo segnalino popolazione di un numero uguale al valore del dado che hai utilizzato per svolgere questa azione. Il mercato delle carte non è stato riempito tutto quanto durante il setup, ma non appena il segnalino popolazione di un giocatore raggiunge la sezione verde o la sezione blu si aggiungono carte a quelle sezioni. L'azione Busted ti permette di aumentare la tua felicità. Paga due papiri e avanza la tua felicità del numero del dado che hai preso. Ricorda che la tua felicità non può mai superare la tua popolazione. E se utilizzi un dado di valore 1 o 2 ottieni due scriba. Se invece utilizzi un dado di valore 3 o 4 ne ottieni uno. Con dadi di valore 5 e 6 non ottieni nulla. La prima volta che arrivi con il tuo segnalino felicità su nel numero 16 ottieni un oro. Quando invece arrivi sul numero 19 ottieni uno scriba. Quando arrivi sul numero 21 fai un'azione qualsiasi come se avessi preso un dado qui dal tabellone. Tieni presente però che se il tuo segnalino dovesse tornare indietro e poi ritornare su quei bonus non li otterrai una seconda volta. Ora vediamo l'azione TOT che ti permette di prendere una o più carte. Il valore del dado che hai preso determina quante carte puoi ottenere. Mentre invece il tuo segnalino felicità ti indica quante sono quelle disponibili per te nel mercato delle carte. Un dado di valore 1 o 2 ti permette di prendere una carta gratuitamente da una sezione. Mentre un dado di valore 3 o 4 pagando due papiri ti permette di prendere due carte da una stessa sezione. Ovviamente tra quelle a te disponibili. Di conseguenza un dado di valore 5 o 6 pagando 3 papiri ti permette di prendere 3 carte da una sezione a te disponibile. Prima di prendere le carte però puoi decidere di spendere un papiro per scartare tutte le carte presenti nella sezione che hai scelto e pescarne di nuove. Quest'azione però puoi farla una volta sola. Alla fine della tua azione riempi gli spazi vuoti pescando dalle pile. Se le pile dovessero essere esaurite rimischia quelle degli scarti e forma delle nuove pile. Esistono tre tipi di carte. Ci sono le carte benedizione che sono carte che puoi utilizzare una sola volta quindi una volta utilizzate le scarti e le metti in una pila degli scarti. Ci sono le carte tecnologia invece che sono delle abilità permanenti e si attivano in determinati momenti descritti sulla carta e le tieni nella tua area di gioco e non c'è il limite al numero di carte che puoi avere qualsiasi tipo di carte. Mentre invece ci sono queste che sono le carte decreto e queste carte ti permettono di ottenere dei punti vittoria a fine partita per le condizioni indicate tenendo presente che nella parte alta c'è un simbolo e a fine partita potrai ottenere punti vittoria solo da carte con simboli diversi e un massimo di tre carte decreto. L'azione Osiris ti permette di costruire un edificio in questa zona. Questi edifici non costano risorse ma bisogna spendere una felicità. Il numero del dado che hai scelto identifica la fila dove andrai a costruire l'edificio. Lo spazio in questa fila puoi sceglierlo invece purché sia vuoto. Questi spazi ti permettono di ottenere risorse e di aumentare il tuo livello di produzione. Ad esempio in questo caso il giocatore arancione otterrebbe due pane e la possibilità di avanzare il tracciato produzione del pane di due spazi. Questo simbolo indica un tracciato qualsiasi. Costruire edifici in spazi con un valore più alto dà dei benefici immediati molto più forti mentre invece costruirli in valori più bassi dà dei vantaggi in fase di punteggio. E adesso vediamo l'azione di produzione che viene fatta al posto di quelle che abbiamo appena visto. In questo caso non conta da dove hai preso il dato ma il colore che ne determina il tipo e il valore che ne determina il numero. Tieni presente però che i dadi grigi non producono risorse. Prendi un numero di risorse uguale al valore del dado e confrontare con il livello di produzione di quella risorsa sulla tua plancia. Tieni risorse in un numero uguale a quel livello mentre gli eccessi vanno messi sulla bilancia nel lato contaminato. Al posto di fare una delle azioni che abbiamo appena visto puoi decidere di spendere esattamente due scriba dalla tua riserva e rimetterli nella riserva comune per prendere un qualsiasi dado dal tabellone anche uno proibito e fare una qualsiasi azione di un dio oppure un'azione di produzione. Non conta né da dove hai preso il dado né il colore. L'unica cosa che conta è il valore e puoi comunque modificarlo spendendo ulteriori scriba. Quando svolgi un'azione anubis il dado non viene messo sulla bilancia ma viene messo sotto e quindi non conterà, non peserà nella fase maat. Dopo due round avviene una rotazione quindi si gira l'obelisco e quindi vengono pescati dadi dal sacchetto e messi nelle zone di ombra in un numero pari al numero dei giocatori. Mi raccomando ricorda di controllare la posizione di tutti i dadi perché potrebbe essere cambiata. Quando i giocatori hanno quattro dadi sulla propria plancia avviene la fase maat e bisogna calcolare il proprio equilibrio dove i dadi che si trovano dal lato puro contano come positivi nel loro valore mentre invece quelli che si trovano dal lato contaminato contano come negativi insieme a eventuali risorse. I dadi che si trovano invece sotto la bilancia nella zona dell'azione anubis non contano nulla. In particolare i dadi contano in base al loro valore come negativi o positivi mentre le risorse contano sempre come un valore negativo. I dadi che si trovano sotto la plancia in questa fase non contano. In questo esempio il giocatore viola ha otto punti positivi e otto punti negativi bilanciando così il suo spirito. In questa fase i giocatori possono spendere un qualsiasi numero di segnalini fatto per cercare di controbilanciare la bilancia. Questi contano come 1 messi da un lato o dall'altro. Una volta ottenuto il risultato finale muovi questi segnalini su questo tracciato. I giocatori che hanno un bilancio negativo perdono punti vittoria in base a dove sono arrivati. Questo non succede se hanno un bilancio positivo. Quindi stabilisci il nuovo ordine di turno in base a dove si trovano questi segnalini. Chi ha un bilancio di 0 sarà primo. Successivamente i giocatori nelle posizioni meno 1 1, meno 2 2 e a seguire. In caso di pareggio il giocatore che ha la carta con il valore anche più alto sarà il giocatore più avanti nel turno. Tieni presente che per pareggio si intende anche questo. In una situazione come questa ad esempio il giocatore arancione sarebbe primo e il giocatore viola sarebbe secondo. Il primo giocatore è il giocatore viola che decide di prendere questo 4 dalla parte contaminata dell'azione tot quindi lo mette da questo lato della sua plancia e vuole ottenere delle carte. È un dado di valore 4 quindi può ottenere due carte da una sezione. La sezione a lui disponibile visto il segnalino felicità è solo questa. Deve pagare due papiri e decide di ottenere queste due carte. Terminata la sua azione se ne scoprono di nuove. Il giocatore arancione decide di prendere questo 6 nero che è puro e quindi lo mette da questo lato della sua plancia per ottenere risorse. Lui può ottenere un massimo di 3 granito quindi 3 finiscono da questo lato della sua bilancia. Il giocatore viola decide di prendere questo dado marrone che è puro e quindi va da questo lato della sua bilancia per produrre pane. Ne produce una sola unità ma decide di utilizzare questa carta che va scartata che gli fa fare quest'azione due volte ottenendo quindi due pane. Il giocatore arancione decide di fare l'azione di Ra. Vuole prendere questo dado che è contaminato ma decide di spendere due scrivi per trasformarlo in un 3. Quindi lo mette sulla sua plancia dal lato contaminato. A questo punto può prendere questa tessera che coincide con la zona buia e quindi può ottenere anche il bonus sulla tessera e ottiene due punti vittoria. Pagate le risorse dove l'oro conta come risorsa qualsiasi decide di mettere la tessera qui in questo modo. Ottiene quindi due calcare otterrebbe punti vittoria se ci fossero edifici qui e qui ma ottiene punti vittoria grazie al colore dei bordi della tessera che coincidono con i bordi del tempio ottenendo quindi due punti vittoria. Quindi ci posiziona su un suo pilastro. Il bonus su questa tessera gli fa pescare una tessera decreto casuale che è questa. Il giocatore arancione decide di prendere questo 5 che è puro e lo mette dal lato puro della sua plancia e quindi vuole costruire un edificio. Prende quello più a sinistra dalla sua plancia e decide di posizionarlo qui. Deve pagare tre pane e dà due pane e un oro. Quindi ottiene risorse e punti vittoria. Tutte le risorse indicate sulla riga o la colonna in base a dove ha costruito e se ci fossero dei suoi pilastri in quella riga o colonna otterrebbe tre punti vittoria per ogni pilastro ma in questo caso ottiene una risorsa per tipo che in questo caso sono un granito, un pane, un calcare, un papiro e un segnalino fato. I giocatori hanno sulle proprie planche due dadi quindi avviene una fase di rotazione. Si gira quindi la ruota dell'obelisco e si aggiungono dadi nelle zone d'ombra. Per comodità togliamo questo così riusciamo anche a vedere cosa stiamo facendo. Si posiziona un numero di dadi in base al numero dei giocatori. Lanciamo prima qui. Nero è contaminato, il bianco anche. Lanciamo per questa sezione. Il nero è contaminato e il bianco anche. Quindi bisogna controllare tutti gli altri dadi se hanno cambiato posizione. Qui il giallo diventa puro, qui il nero diventa proibito, il giallo diventa puro, il marrone anche e qui il giallo diventa proibito. I grigi sono sempre contaminati. Il giocatore viola a questo punto decide di prendere questo 4 che è puro per fare l'azione di Bastet. Spende due papiri, di cui uno è un oro, per salire del valore del dado che era un 4. Sale solo di tre spazi perché il suo segnalino popolazione limita il suo segnalino felicità. Ma ora ha accesso anche a queste carte. Il giocatore arancione decide di prendere questo 2 che è contaminato e lo mette dal lato contaminato della sua plancia. Quindi può prendere una carta gratuitamente e decide di prendere questa carta. Il giocatore viola decide di prendere questo 6 contaminato e di mettere un edificio qui, ottenendo due granito e la possibilità di salire sul tracciato del granito due volte e su un tracciato a scelta. Quindi sale due volte qui e una qui. Il giocatore arancione decide di prendere questo 3 puro per produrre 3 pane, di cui ne può ottenere solo 2. Uno quindi andrà da questo lato della bilancia. A questo punto i giocatori hanno 4 dadi sulla propria plancia, quindi avviene una rotazione e si svolge la fase mat, ovvero bisogna determinare l'equilibrio sulle proprie bilance. Il giocatore arancione è perfettamente a pari. Il suo segnalino viene posizionato sullo 0. Il giocatore viola invece è terribilmente sbilanciato dal lato contaminato, con un valore negativo di meno 13. E il suo segnalino viene posizionato qui, facendogli perdere 3 punti vittoria. A questo punto, quando i giocatori hanno 4 dadi sulla propria plancia e la freccia punta a questo segnalino punteggio, quello con il numero di clessidre minore, avviene la prima fase di punteggio. Prima di tutto, nella zona dell'azione Osiris, controlla per ogni colonna quanti componenti ha ogni giocatore tra edifici e statue. Il giocatore in maggioranza ottiene 3 punti vittoria. In questo caso, per questa colonna il giocatore arancione ottiene 3 punti vittoria. Per questa colonna, dove il giocatore viola e il giocatore arancione sono in pari, conta chi ha il pezzo più in alto e in questo caso è la statua, che tra l'altro copre 2 distretti. Quindi in questo caso il giocatore viola ottiene 3 punti vittoria, come anche per questa colonna. Quindi si ottengono i punti dal tempio. Ogni edificio attorno al tempio fa ottenere un punto vittoria per quel giocatore. In questo caso il giocatore arancione ottiene 2 punti vittoria. E ogni pilastro del proprio colore all'interno del tempio fa ottenere un punto vittoria per edificio, o statua, nel proprio colore, che si trova nella stessa colonna o riga. In questo caso il giocatore arancione ottiene 2 punti vittoria più 1 punto vittoria, per un totale di 3. Quindi si ottengono un certo numero di punti vittoria in base alle statue che sono state costruite. In questo caso il giocatore viola ottiene 1 punto vittoria ed è l'unico aver costruito statue. E inoltre si ottengono punti vittoria in caso sono stati costruiti questi edifici. Si ottengono 2 punti vittoria per ogni segnalino produzione che è arrivato sul numero 6 e si ottengono 3 punti vittoria per ognuno di questi triangolini che sono stati raggiunti dal segnalino felicità. A questo punto bisogna pagare pane in base a quanti edifici sono stati costruiti. Il giocatore viola deve pagare un pane. Il giocatore arancione invece ne deve pagare due, ma ne può pagare solo uno facendone fronte con l'oro. In questo caso o se un giocatore non vuole pagare pane, per ogni pane non pagato si perdono 3 punti vittoria. A questo punto rimetti tutti i dadi sulle plance nel sacchetto, le risorse che si trovavano dal lato contaminato in riserva, i segnalini fato spesi e quelli non spesi in riserva e i giocatori rimettono le proprie carte destino nell'area di gioco e nel nuovo ordine di turno se ne sceglie una. A questo punto si pescano nuovi dadi e si riposizionano. Finita la fase di punteggio rimuovi il segnalino con la clessidra, a meno che non è la seconda fase di punteggio e a quel punto si va a calcolare il punteggio finale. In base all'ordine di turno i giocatori ottengono dei punti vittoria. In partite a 3 o 4 giocatori il primo giocatore ottiene 3 punti vittoria, il secondo invece ne ottiene 2. In partite a 2 o un giocatore non si ottengono punti vittoria per l'ordine di turno. I giocatori a questo punto possono scoprire le loro carte decreto, fino a un massimo di 3, e ottenere i punti vittoria indicati, tenendo presente che le carte decreto devono avere simboli diversi. Chi ha più punti vittoria a questo punto è il vincitore, in caso di parità chi ha più scribi e in caso di ulteriore parità chi è più avanti nell'ordine di turno. E questo è tutto. Io ti ricordo che se vuoi puoi andare a vedere il video del mio parere cliccando in alto in descrizione. Ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e risponderò appena possibile. E ti ricordo che se ti piacciono i video che faccio considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.